buongiorno siamo qui con federica e milco ci volete dire la vostra esperienza io mi sono conosciuto con federica in un evento di beneficenza diciamo simile ad oggi per cui da un evento di questo tipo con queste finalità e abbiamo fatto il primo approccio e da lì nel giro di qualche mese è nato qualcosa di più è nato inizialmente un innamoramento poi la storia d'amore è proseguita ovviamente lei sorride perché è stata una storia d'amore che è andata avanti tra alti e bassi come tante altre storie d'amore e quindi nella disabilità siamo tutti uguali no è stata una storia complicata nata complicata proseguita complicata adesso si sta direi assestando e riequilibrando nella maniera corretta e beh è nata e proseguita complicata perché noi abbiamo attraversato diverse crisi importanti soprattutto incentrate a differenza di quello che magari può sembrare non sulle nostre problematiche fisiche quanto soprattutto sull'aspetto psicologico ecco stando insieme io mi sono resa conto che le sue insicurezze erano maggiori rispetto a quelle che avevo intuito all'inizio e però mi sono resa conto anche che era una persona molto bisognosa di premure perché comunque aveva da affrontare con se stesso un difficile percorso quello di accettazione della sua nuova condizione post incidente e io ho provato a stargli vicino meglio che ho potuto cercando un po' di trasformare in sicurezze le sue insicurezze mettendo un po' da parte le mie e poi beh diciamo che le cose si sono un po' ribaltate perché se il primo anno sono emerse le sue principalmente di fragilità poi invece il secondo anno hanno iniziato a affiorare le mie sempre in maniera più prepotente e lì sono stati i cavoli suoi perché ha dovuto rimboccarsi le maniche e insomma darsi da fare lui per per farci conti io sono una persona che ha sempre avuto nella vita un rapporto conflittuale con il proprio corpo e quindi questa cosa si è avuto delle ripercussioni importanti all'interno del nostro rapporto però ce la siamo cavata abbastanza bene e ce la stiamo cavando abbastanza bene abbiamo soprattutto imparato a ascoltarci tanto a comunicare parlare veramente il più possibile di ogni aspetto dalle cose magari che possono sembrare più banali più stupide fino a quelle più profonde a farci aiutare perché potete capire che comunque ci sono delle difficoltà oggettive che possiamo parlare di tante belle cose ma purtroppo ci sono delle difficoltà oggettive che sono insormontabili per cui abbiamo anche imparato a farci dare una mano esatto assolutamente sì e poi beh ecco ricette soluzioni magiche insomma per per andare d'accordo non ne abbiamo però con tanta buona volontà e tanta pazienza si riesce si può stare bene insieme pur avendo due disabilità abbastanza evidenti come le nostre si nel futuro federico e mirco come ve lo aspettate passo sempre la parola a lui perché le io sono quello più pragmatico e razionale lo metto sempre in conto delle difficoltà che aumenteranno perché tanto le condizioni fisiche e psichiche ahimè con l'avanzare dell'età andranno un po a segnarci però per quello che mi è successo io sono finito in carrozzina a seguito un incidente vivo molto col dire intanto prendiamo quel che viene poi sarà quel che sarà poi si vedrà no diciamo che è lui che ha più timori rispetto al futuro di quanti realtà ne abbia io non perché io non ci pensi però ecco io sono nel momento in cui ci siamo messi insieme io ero estremamente convinta e nel corso di questi due anni tutte le scelte che ho compiuto sono state proprio il frutto di una piena consapevolezza e quindi non mi sono mai sentita spaventata da nulla fondamentalmente anzi io ripeto spesso che per quanto sia difficile comunque per me stare insieme è infinitamente meglio di qualsiasi altra alternativa quindi ecco grazie a Federica grazie a Mirko di aver risposto una domanda un po personale grazie a tutti 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 grazie a tutti